Comunque vada, era questo che volevo sentire dire, comunque vada, voi avrete fatto una grandissima e meravigliosa esperienza, non solo voi ma anche tutti noi. Al di là del risultato, questo stampatevelo nella mente, sono stati bravissimi, qualche pianto, ma gli amici sono andati là a consolare le persone che di più erano in difficoltà. Un grandissimo, un grandissimo, me la fate una cortesia perché per molti di questi ragazzi è la primissima occasione di esibirsi. Vi alzate tutti in piedi perché se lo meritano, voglio che nelle loro retine rimanga questa impressione di tanti amici che stanno in piedi. Memorizzate questo momento. Bravi tutti. Questa è la meraviglia, la magia. Guarda, 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 che meraviglia, che splendida serata. Allora, guarda, 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 che meraviglia.